lei è da anni uno dei volti più importanti di fondazione francesca rava nph italia ets martina colombari non può quindi mancare alla serata benefica a milano con sé porta il suo unico figlio nato dall'amore con billy achille costacurta torna ufficialmente in pubblico con la mamma la 49 n e il 20 n posano insieme davanti ai fotografi eleganti e sereni a el porteno proibido va in scena l'evento un natale proibido e serata speciale nella quale si sostiene una causa importante ogni contributo dato dagli ospiti presenti infatti sosterrà la costruzione della nuova struttura della fondazione akenskov haiti che accoglierà e darà speranza a tanti bambini special needs che hanno bisogno di cure e un posto sicuro dove vivere martina ha scelto di essere super chic e indossare un abito nero lungo in seta che le scivola addosso fino alla caviglia capelli sciolti portati con la riga di lato e leggermente ondulati accanto a lei c'è achille dopo il clamore e l'inizio della disintossicazione il ragazzo ha il volto raggiante porta occhiali con lenti fumé che lasciano trasparire comunque il suo sguardo indossa un completo giacca e pantaloni bordeaux e sotto una t-shirt black come le scarpe martina è da 17 anni al fianco di fondazione rava in passato sul suo impegno aveva detto a vanity fair lo dico sempre mi sento utile quando aiuto gli altri e da quando sono volontaria con fondazione francesca rava questo accade grazie a questa esperienza mi sono resa conto di quanto sia arricchente prodigarsi per l'altro aiutarlo quando è in difficoltà e quanto sia importante dare senza aspettarsi di ricevere grazie 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 grazie